Mi sono fermata di proposito perché dall'autobus mentre andavo verso Trafalgar Square sono passata davanti alla House of Parliament e ho visto i riflessi del sole sul Big Ben e allora ho deciso di condividerli con voi perché è un bellissimo pomeriggio, una bellissima giornata calda. Siamo tutti in mette maniche, vabbè a Londra come al solito si sta col topino o con le ciabattine in qualsiasi stagione quindi non fa caso, però vi assicuro che la temperatura è molto gradevole, ma guardate che bello, sono bellissime tre. C'è l'orario di uscita degli uffici, quindi c'è molta gente e anche molti turisti e come vedete qua ci sono tutte le transenne, stanno cominciando a preparare per la maratona di domenica e quindi stanno preparando le transenne per chiudere le strade. Domenica perché si trovasse a Londra, fate attenzione ai vostri percorsi perché la maratona interesserà il traffico in superficie, quindi vedete se potete muovermi per lo più con la metropolitana piuttosto che con gli autobus. O se abitate in zone centrali andate tranquillamente a piedi, anche se potreste rischiare di trovarvi dal lato sbagliato della strada di dove volete andare. Io cammino un po' con il sole in fronte perché grazie alle transenne non è facile passare da un posto all'altro. Vorrei fare un giro della piazza tanto per darvi un'idea anche dei turisti che sono tutti stesi sul prato di Fabian Square. Questo è tutto semplice da prenderli l'acqua. Però è veramente un'impresa. Vedete il boarding? La strada sarà chiusa dalle 7 alle 7 domenica per la maratona appunto. Io mi guarderò bene dal venire in centro ovviamente. Dopo che abbiamo visto i riflessi sul neogotico della causa sopparne, mi lascio e raggiungo la mia meta. Allora, a dopo.